calegnaia 6 agosto 2019 è stata una bella giornata di mare ma gradualmente il vento ha cominciato a montare la risacca ha cominciato a diventare sempre più violenta poi le onde che erano comunque basse anche se il mare è un pochino increspato trasportavano parecchia sabbia del fondale di calegnaia rendendo l'acqua un po torbona erano parecchie le meduse rosse a cipolla ustionanti e quindi fare il bagno anche se è stato possibile era comunque un po una noia perché era un continuo un arrivare di queste meduse d'altronde a periodo e probabilmente rimarranno questa noia questo fastidio fino al 15 di agosto 16